Scusi, lei è l'ultimo della fila? Io sono il primo di quelli che verranno. Sì, si è sempre primi di qualcosa. I numeri primi, secondo la quantistica, sono i più difficili da individuare. Infatti, io sono un numero uno in tutto e non mi hanno mai scoperto. Vedendola, meno male. Arrivederci. Arrivederci a lei! But lady, 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 there's nothing in me.